Musica Sono Gioia Luce, sono la store manager di questa pizzeria e ci troviamo nell'antica pizzeria da Michele Roma Trevi. Musica Questa pizzeria è aperta il 29 marzo 2018, aperta dopo due anni dall'apertura, che è il grande successo che abbiamo comunque riscontrato nella prima sede, cioè l'antica pizzeria da Michele Roma Flaminia. Poi per accontentare anche le richieste dei clienti abbiamo comunque voluto aprire anche una seconda sede Roma Centro. Infatti ci troviamo proprio a pochi metri dalla fontana di Trevi, dove comunque abbiamo molta affluenza anche di turisti, non solo di persone che comunque già ci conoscevano. Musica Rappresentare il brand dell'antica pizzeria da Michele, che comunque è conosciuta in tutto il mondo, famosissima, è sicuramente una grande responsabilità, perché comunque bisogna soddisfare i clienti, così come già vengono soddisfatti a Napoli. Quindi fare in modo che siano contenti del prodotto, dell'accoglienza, così come si respira l'antica pizzeria da Michele a Napoli. Musica 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 Grazie.